L'Italia fa le prove in zona bianca, via le restrizioni che hanno segnato la vita degli italiani negli ultimi sette mesi in riapertura di tutte le attività in Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, con 3 milioni di concittadini che hanno dato l'addio al coprifuoco. Un anticipo di quanto accadrà in nove regioni nella provincia di Trento tra il 7 e il 14 giugno, che si accompagna ad un altro passo significativo verso la normalità. La riapertura in tutto il paese dei ristoranti al chiuso, a pranzo e a cena, con l'obbligo di mascherina ogni volta che ci si alza dal tavolo e la possibilità di tornare a prendere il caffè al bancone del bar. È saltato anche il limite di massimo 4 persone al tavolo. Saranno nuovamente possibili le tavolate tra amici. Il bollettino del Ministero della Salute, nonostante il solito calo domenicale dei test, conferma la discesa della curva dei contagi, con 1820 nuovi positivi su 87.000 tamponi e il dato delle vittime ancora sotto quota 100 in 24 ore. Il cronoprogramma dunque prosegue ed anzi nelle tre regioni bianche hanno riaperto in anticipo tutti i settori la cui ripartenza era prevista per il primo luglio. Piscine al chiuso, centri termali, sale giochi, bingo, casino, centri ricreativi e sociali, corsi di formazione, pubblici e privati. Aperte anche le discoteche, ma solo per somministrazione e ristorazione. Insomma, si mangia e si beve ascoltando musica, ma non si può ballare. Le uniche restrizioni rimaste sono l'utilizzo della mascherina e il distanziamento, oltre al rispetto dei protocolli che regolano i diversi settori indicati nelle linee guida. Nelle tre regioni bianche si può tornare anche a far festa. I ricevimenti dopo matrimoni e comunioni, ma anche i compleanni e feste di laurea, sono consentiti, mentre nelle regioni gialle si dovrà attendere il 15 giugno. Per parteciparvi, sia in zona bianca che in giallo, serve però una delle tre certificazioni verdi previste al decreto e che durano nove mesi. Il certificato di avvenuta vaccinazione, dopo la seconda dose oppure 15 giorni dopo la prima, il certificato di guarigione o un tampone negativo effettuato 48 ore prima. In attesa che arrivi il pass digitale sull'appio o immuni, potrebbe già essere pronto per il 15 giugno o al più tardi quando entrerà in vigore il Green Pass europeo il 1 luglio, basterà la certificazione rilasciata dall'autorità sanitaria. La prossima data ora da segnare sul calendario è il 7 giugno. Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto passeranno in zona bianca, mentre nel resto d'Italia gialla ci sarà un altro passo verso l'addio al coprifuoco. Dalle 23 sletterà alle 24. La settimana successiva, se i dati manterranno l'attuale andamento, toccherà Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte e Puglia e provincia di Trento passare in bianco, mentre le ultime sette regioni, fra cui la Campania e la provincia di Bolzano, dovranno attendere il 21 giugno, quando sparirà ufficialmente anche il coprifuoco. L'ultimo simbolo che se ne andrà, invece, è la mascherina. Si potrà pensare di togliere l'obbligo di mascherina all'aperto quando metà della popolazione sarà vaccinata, ripete anche oggi il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri. Ma serve buonsenso ed è chiaro che in estate la mascherina all'aperto, dove non c'è assembramento, si può mettere nel taschino. Grazie. Grazie. Grazie.